Eccoci di nuovo amici del Centro Met italiano e bentornati dalle vacanze natalizie in cui abbiamo vissuto notevoli cambiamenti climatici sulla nostra penisola con il passaggio dall'anticiclone e caldo forestagione a un'intensa ondata di freddo e nevicate al centro-sud Italia fino in pianura lungo le coste più meridionali. Più stabili è invece asciutto al nord ma con temperature molto rigide fino a 10 gradi sotto zero sulle città della pianura padana. Il tutto generato dal flusso di aria molto intenso di estrazione polare continentale in transito da nord a sud responsabile del sensibile calo delle temperature anche di 12-15 gradi in meno dall'epifania rispetto ai giorni precedenti. Ma vediamo cosa ci dobbiamo attendere nei prossimi giorni della settimana in corso secondo il nostro modello di calcolo. Se sul versante del medio, Basso Adriatico e al sud Italia, Sicilia compresa, il freddo intenso unito alle precipitazioni ha prodotto nevicate fin sulle coste. Al nord Italia e sul versante tirrenico centrale sono mancate le precipitazioni almeno finora in quanto nelle prossime ore il passaggio di una circolazione depressionaria lungo le coste tirreniche potrebbe determinare un peggioramento del tempo con delle nevicate fino in pianura. Si prevedono tuttavia fenomeni nevosi di debole intensità fin dalla mattinata del 10 di gennaio su Piemonte, Ligure, Emilia Romagna, Basso Veneto ma anche Toscana, Umbria e Lazio oltre che su settori del medio e basso Adriatico già interessati dalle nevicate dei giorni precedenti. A seguire l'intensa ondata di gelo andrà lentamente a Scemani con l'ingresso di venti nord occidentali comunque freschi e stabili. Per il momento è tutto consultate i nuovi aggiornamenti anche con la nuova app gratuita Meteo dove trovate tutte le ultime uscite del nostro modello di calcolo.